Sono state revocate la zona di protezione e la zona di sorveglianza istituite all'inizio di aprile scorso attorno al focolaio di aviaria scoperto a Pietrasanta. A comunicarlo è la ASL Toscana Nord-Ovest. Il provvedimento è già scattato dallo scorso 5 maggio, dopo che le immediate operazioni di disinfezione e tutti i controlli del caso presso il focolaio e nelle zone di protezione e sorveglianza hanno dato esito favorevole. Trascorso il tempo minimo necessario per il mantenimento, il Dipartimento della Prevenzione ha disposto la revoca delle misure per contenere il contagio. Lo scorso 4 aprile gli uffici Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria avevano comunicato di aver rilevato un caso di influenza aviaria in un allevamento avicolo rurale di Pietrasanta nella campagna di Via del Padule, originato con ogni probabilità da uccelli migratori. Vennero perciò istituite nell'area intorno all'allevamento una zona di protezione del raggio di 3 chilometri e una di sorveglianza nel raggio di 10 chilometri all'interno delle quali ricadevano i territori di tutti i comuni della Versilia e una piccola parte del comune di Montignoso. Passato un mese durante il quale sono state vietate fiere, esposizioni, mercati, mostre e vendita ambulante di pollame o volatili e rilascio di volatili per il popolamento faunistico venatorio e durante il quale non sono stati individuati altri casi di aviaria, la ASL ha quindi deciso di revocare le misure di contenimento.